Cinque punti all'ordine del giorno che questo pomeriggio le associazioni e i comitati di Taranto toccheranno con il prefetto guidato. Sì, noi abbiamo chiesto al prefetto un incontro urgente in ordine a questi temi per quanto riguarda Tempa Rossa, la legalità soprattutto perché come cittadini ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni, l'aeroporto Cimino e l'ospedale Nuovo. Abbiamo chiesto questo incontro urgente per chiedere chiarimenti al prefetto o chi per esso ma soprattutto per rilanciare quelli che sono i diritti del cittadino che sono stati totalmente abbandonati nella città di Taranto e pertanto rilancieremo al prefetto queste richieste che riguardano la tutela della salute ma anche gli altri diritti come ho detto all'aeroporto, alla sanità Cimino e soprattutto all'argomento attuale Tempa Rossa. Noi abbiamo chiesto questo incontro nel cosiddetto principio di sussidiarietà che consente costituzionalmente ai cittadini il diritto di intervenire su questioni fondamentali che riguardano la tutela del bene conune come quella del territorio, dell'ambiente e della salute e pertanto pretendiamo di tutelare questo nostro diritto facendo le richieste legittime al prefetto. Voglio ricordare che l'articolo 51 del codice penale dice che l'esercizio del diritto non è punibile quindi se noi non siamo tutelati a questo punto dall'istituzione ricorreremo alle nostre azioni di difesa per la tutela di un diritto quale la tutela della salute e dell'ambiente perché appunto è un nostro diritto ricorrere a questi mezzi di difesa dato che le istituzioni non ci difendono.